Appariva come una normale coltivazione di canapa industriale, ma in realtà i parametri che ne consentivano la produzione erano notevolmente superiori e tali da catalogarla come mariuana. Per questo motivo i carabinieri di La Mezzia Terme e Nocella Terinese, nel corso di alcuni controlli, hanno individuato in località Persicara un appezzamento di terreno soggetto a vincolo paesaggistico ambientale, dichiarato di notevole interesse pubblico, in cui erano state messe a dimora circa 1.500 piantine, presumibilmente di cannabisativa, da parte di un imprenditore agricolo. I militari dell'arma hanno prelevato i campioni e dopo le analisi sulle piante è emerso che le piantine di cannabis avevano una concentrazione altissima di THC. I carabinieri così hanno proceduto al sequestro di più di 900 piante, al sequestro di circa 1.700 grammi di cannabis già essiccata e anche al sequestro dell'intera superficie utilizzata per la coltivazione, estesa su oltre 5.000 metri quadri. Le piante di cannabis sono state distrutte sul posto e i soggetti coinvolti, un imprenditore agricolo e un bracciante, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di coltivazione legale di sostanze stupefacenti.